Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake ai funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, parmigiano grattugiato, latte, olio, uova, sale, lievito istantaneo per torte salate, funghi porcini, burro, vino bianco, provola dolce, pepe e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro, il prezzemolo, il pepe, il sale e i funghi porcini. e facciamo insaporire per 5 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungiamo il vino e lo facciamo sfumare per 5 minuti, 120 gradi, anti-orario, velocità soft. I funghi sono cotti, mettiamoli da parte. Mettiamo nel boccale il latte, l'olio, le uova, il sale, il parmigiano grattugiato. ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 4. Aggiungiamo la farina. il lievito. Facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5. Aggiungiamo i funghi. la provola. E facciamo impastare per 2 minuti in modalità spiga. Versare il composto in uno stampo da plum cake da 24 centimetri. cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa. Il plum cake è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Plum cake ai funghi. Grazie e alla prossima ricetta! Alla prossima ricetta! Grazie a tutti.